Siamo al provvedimento in aula. Con il decreto rilancio abbiamo stanziato 55 miliardi per far ripartire il Paese. Dalla riapertura delle scuole, l'eco bonus del 110%, fine contributi a fondo perduto per lavoratori e imprese. Per il Movimento 5 Stelle però adesso bisogna mettersi al lavoro per abbassare le tasse e semplificare il Paese. Allargamento del super bonus alle seconde case e un incentivo per la rottamazione delle auto. Sono le principali modifiche al decreto rilancio che lunedì arriva al voto della Camera. Giampiero Scarpati. L'obiettivo è stimolare i consumi e dare sostegno a uno dei settori che ha subito gli effetti più pesanti dell'emergenza Covid. Da agosto fino a fine anno arrivano nuovi incentivi per chi rottama un'auto con almeno 10 anni. Bonus fino a 3.500 euro per le Euro 6, sale a 6.500 euro per le auto ibride e fino a 10.000 euro per quelle elettriche. Altra novità importante, il super bonus per l'edilizia si estende anche alle seconde case. Dall'incentivo al 110% per i lavori di efficientamento energetico saranno escluse le case signorili e le ville. Prorogati i contratti a termine di apprendistato che erano stati sospesi a causa del Covid. Durata prolungata in misura equivalente al periodo di stop. Esteso anche il congedo parentale straordinario al 50% dal 31 luglio al 31 agosto riguarda i dipendenti privati con figli fino a 12 anni. Tra le novità approvate dalla Camera, anche lo stop della Gcom ha le telefonate commerciali senza il consenso dei consumatori. E la proroga fino a fine anno dello smart working per il 50% dei dipendenti pubblici che svolgono attività eseguibili da remoto. Capitolo aiuti alle imprese. L'agenzia delle entrate fa sapere che dal 15 giugno i contributi a fondo perduto erogati sfiorano i 3 miliardi di euro. Adesso i numeri del Covid in Italia. C'è un aumento dei casi. La maggior parte però sono in Lombardia. Grazie. Grazie.